Musica Per la Lega Cattolica la gara che chiude questo mercoledì del campionato universitario Tra Nando Soccer in divisa bianca e Old Fox in divisa verde Appoggia e perde palla però al numero 13 Caravita Attenzione riparte Caffè Clari Il destro che sfiora l'incrocio dei pali Un'indecisione che poteva costare Cara Potrebbe calciare anche direttamente in porta Clari il destro a giro Rispito a Caravita e la traversa poi di Lega Occasione per Old Fox per passare in vantaggio Attenzione Clari innesca Pozzoli sulla destra Palla dentro e il miracolo Il miracolo di Toselli Sul destro ravvicinato di Pozzi Attenzione Rai al contropiede La respinta di Ghelli Attenzione Mazzia Rai al contropiede Rai al contropiede Il miracolo ancora di Bedeschi E pianta a sinistro ancora Bedeschi di piede Sul passaggio di Raina da calcio d'angolo Raina Saltato di netto Pozzi Attenzione Raina Raina si accentra Raina Il destro Nando sulla sinistra Con Raina Si accentra Pistolero Palla dentro per Riva Non si intendono Ale Ale Ma che mi manca uno della Nando Questo qua senza numero Devo capire chi era Attenzione Raina per Grillo Raina per Grillo Il gol Il vantaggio della Nando Socce Sta per partire il secondo tempo Della sfida tra Nando Soccer e Old Fox Ricordiamo il risultato parziale Maturato nella prima frazione Vende la Nando Soccer Condurre la partita per una rete a zero Grillo Gol di Grillo E proprio Grillo L'autore del gol Che per ora decide la partita Portar palla Verticalizza per Mazzia Lo stop di Mazzia Si gira Limita il destro Ebedeschi in angolo Va vicinissimo al raddoppio Nando Soccer Dopo neanche Un minuto di gioco Attenzione Caravita Carica il destro Da fuori Ebedeschi ancora in angolo Vediamolo un 10 Sì beh Contro questa partita Forse quella macchia però ti dai È il Gol È il gol È il raddoppio Naccari proprio Naccari a fare il gol Terminale offensivo Stanno andando Soccer Stanno andando bene ma comunque il secondo posto nella classifica della Lega Calcio Cattolica Sicuramente una delle leghe storiche più difficile Probabilmente insieme alla Bocconi e null'altro Ora prova ad andare Mazzia Per Mazzia È il 3 a 0 Con la verticalizzazione di Riva Micidiale Renegade Col suo sinistro sul primo palo Attenzione Pilon Pilon per Grillo Grillo lascia Può scorrere per pianta però Marcato dall'avversario E poi Grillo La palla però rimane lì Pilon Pilon per Grillo A limite dell'area In oluk di Grillo E Mazzia Servito poi puntualmente in area da Naccari Azione tutta nello stretto Hai visto come fanno male Sai cosa succede nell'acqua? Sai cosa succede se tu fai 200 metri? Ti muori Muori Rimani spappolato praticamente Questo è un impasto No scherzo Stiamo chiaramente scherzando Andandoci ancora a termine Ripartenza errore Mazzia Mazzia La finta che si accentra Il sinistro E gol E ha fregato il portiere L'ha fregato È il numero 9 Il terminale Il festivo di questa scuola Io quelli che buttano via il pallone Non mi supporto Comunque Siamo un po' nervogita la partita Devo dire la verità Riva 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 E il gol di Riva E qui sicuramente Qualche dubbio Sul gol che fosse prima O dopo Potrebbe venire Tanto parte Rai Nazzutto Spiano Rai Nazzutto Spiano Va a cercare il suo carissimo amico Mazzia Il suo carissimo amico Mazzia Si gira Ma non va Ancora Raina La giocata Raina calcia Forte Al centro della porta Bedeschi la vede Ma non la riesce a prendere Prende a calcio il palo E il pistolero di fiducia Di Cosci E di Fusco Di Bernardi È lui Federico Peppe Raina Secondo me andiamo a 8 Secondo me saliamo a 8 Diciamo che C'è un 50-50 Per sta punizione Va ed è Mazzia Perché termina l'azione Fa tanti gol Avrà fatto 4 gol A meno oggi Mazzia Finisce questo momento la partita Ricordiamo il risultato finale Nando Socerotto Il Fox 0 Due parole Finali tra Clary E Raina Per Nando Socer Fabrizio Mazzia Una vittoria abbondante Insomma Era al di là dei tre punti Era importante Fare più gols possibili Per la differenza rete Immagino al di là del No la differenza rete Ormai non conta nulla E gli hanno fatto fare gol Più che altro Ringrazio apertamente La squadra E pubblicamente Perché se vado 4 gol Tutti merito loro Avevate tante Diciamo frecce A vostro arco Primo tempo Un po' più combattuto Fin quando Insomma Non avete trovato L'accelerazione decisiva Lì poi Penso che non abbiate Avuto più difficoltà Esatto Come quasi tutte queste partite Bisogna fare il primo gol Poi si aprono le squadre E ne facciamo di più Va bene Ti lascio andare L'ultima cosa Ti do il premio Diciamo Non di consolazione Perché ti hai vinto Il free drink Per il Setai Colonial E un cartoncino Due persone E una beve gratis Quindi sono due su tre Va bene Ciao Alla prossima Per i Old Fox Il portiere Bedeschi Protagonista assoluto Non ti sto prendendo in giro Perché secondo me Hai fatto una partita Diciamo Da dieci Perché veramente Ne hai tirate fuori Di tutti di più E sono veramente Così forti Da come li abbiamo visti In campo Questi ragazzi della Nando Sì Sono una buona squadra Secondo me Però È una squadra Che se Si è attaccata In certi punti In certi lati del campo Concedono qualcosa Si è visto anche Nell'altra partita Contro il Deportivo Soprattutto sul lato Sinistro del campo Io l'ho detto Di attaccare lì Ma purtroppo Non si è riusciti A attaccare Su quel lato di campo Meritato pienamente Il risultato Non sono queste La partita Che vanno vinte E comunque Sono fiducioso Che anche Giocando così Si può passare Il turno Ai playoff Sì Secondo me È una disamina giusta Nel senso che Sono squadre Che mettono in campo Le loro iniziative I loro mezzi Però Chiaramente Se dall'altra parte Non trovano qualcuno Che gli dà fastidio E diventa tutto Troppo facile Esatto Si è visto Soprattutto Hanno una squadra Che conta molti cambi E i cambi Questi set Sono fondamentali E niente L'obiettivo nostro Comunque adesso Affrontiamo i Barzotti Che è una partita difficile Ma l'obiettivo Comunque adesso È O il quarto O il quinto posto E Quanto meno Il playoff Quarto non conta niente O il quarto o quinto Tanto Sono fiducioso Di vincere il playoff Ok Ti lascio In ultimo Con il premio di consolazione Del nostro sport Soprattutto Settai Colonia Un free drink Pure e semplice E un cantorcino Un invito per due persone Di cui una fa La pericena gratis Grazie mille Decidite a chi darle Puoi goderteli te Se vuoi Sennò di dirvi Ciao Alla prossima Alla prossima